Amiche e amici, buongiorno. Io sto già ridendo naturalmente una gradita ospite, oggi ho voluto invitare alla nostra trasmissione Radio Catalan in quanto è la prima vigilessa di Alghero che va in pensione. Allora si tratta della vigilessa Franca Pischeda che dal 1979 presta servizio presso la Polizia Municipale del Comune di Alghero. E proprio se non vado in ratto nella giornata di domani concluderà quello che è il suo ciclo professionale che ha visto Franca Pischeda diciamo dibattersi in quella che tutta la sfera urbana è oltre. Ma sarà meglio lei a spiegarci poi durante la nostra chiacchierata quelle che sono state particolarità durante la sua professione, determinate curiosità che le sono capitate nell'arco di questo tempo lavorativo e naturalmente sarà una chiacchierata a tutto campo. Buongiorno Franca. Buongiorno Michele. Tengo a precisare che io non sono abituata a parlare a un microfono, ho sempre in mano o una paletta o un fischietto e quindi mi viene un po' così in salita raccontarmi, però mi fa molto piacere. Ecco Franca, hai detto chiaramente paletta, fischietto ma talvolta la penna. Sei stata di penna pesante oppure? Sono stata una bella penna, sono stata una penna pesante quando ci voleva, leggera quando si poteva fare, sono stata una penna onesta. Ti paragoni a Idro Montanelli per fare il paragono di misteria. Idro Montanelli è solo un maestro, abbiamo solo da imparare da Idro Montanelli. Quindi naturalmente ti reputi di aver esercitato la tua professione tranquillamente. Con onestà. Con onestà. Quali sono stati i momenti più difficili nella tua vita professionale? I momenti più difficili sono stati sicuramente l'inizio, quando non erano abituati ad avere una donna in uniforme per strada. Sono stata super protetta dai miei colleghi, il comandante Alessandro mi ha accompagnato veramente in questo percorso lavorativo dei primi anni un po' difficili. E il maleciallo Stefanelli che mi accompagnava per strada, che diceva agli automobilisti guardate dove mettete le ruote anziché guardare lì. Qualcuno saliva sul marciapiede guidando per cercare di guardarmi. Sicuramente era una novità, non c'erano donne in polizia, non c'erano donne nei carabinieri. Quindi il primo ente che ha aperto le porte alle donne è stato proprio l'ente locale, il comune, e quindi le donne vigili. E quindi tu hai fatto quella che è stata la carriera. Sei partita da... È iniziata la mia carriera. Diciamo da polizia municipale, diciamo di grado... De Gualdia, sono partita da Gualdia semplice. Ma ta grappa la malgherese. Sì, ma no, siccome ha carichettante anciampo, allora è migliore all'italiano. Quindi ti spieghi... Hai trovato mai qualche appunto tuo concittadino, e parlo di algheresi, dove tu prima di naturalmente entrare in conflitto e quindi farle una contravenzione, sei, diciamo, divenuta a parlare con la tua lingua. Sì, 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 tante volte. Ma a Sveglia si parla in algheresi, ma a Sveglia si parla in algheresi. Ah, sì? Ma se io sono giovane non mi parla in algheresi. Cosa parlava in algheresi? Ma io, io, un pascarò in algheresi era del 1887. Parlava in algheresi era una saggioro. Io sono orgogliosa di essere la netta di Salvaro Saldinetta. Ecco, Saldinetta, i pischè da Saldinetta. Cioè, ha detto tutto lei, naturalmente, il sopranovo ad alghero era l'emblema di famiglia. Se non hai l'uccisto non sei saggare. Era l'emblema di famiglia. Continuando, come è che intraprendi quella che è la tua carriera professionale di polizia municipale, di vigilessa? Come meglio credi? Beh, l'ho intrapresa per caso. Per caso, perché era il 78 quando bandino in un concorso pubblico per sette posti di vigili urbani. Ma un posto era riservatario. Io sono un'orfana per servizio e un posto veniva proprio lasciato a disposizione degli orfani. Mi fu consigliato da mio zio Pino Giorico, che allora era in politica un amministratore, e mi dice, guarda, è venuto a casa, ne parlo con mia mamma dicendo, c'è questa possibilità? Io, vigile urbano, ma anche no. E quindi non lo volevo fare. Sinceramente ero un po' imbarazzata. Poi alla fine mia madre mi ha detto, ma dai, è un posto di lavoro. Mi ha detto, mio zio, preferisci lavorare in banca? No. E allora ho fatto la domanda. Ho fatto la domanda e ho partecipato con diversi altri aventi diritto, ma i miei titoli erano superiori. Essendo un concorso per titoli ho vinto. Che titolo di studio hai? Ho la maturità scientifica. Maturità scientifica, per cui avevi tutti i requisiti. Avevo i requisiti, era necessaria la terza media. Ma forse per l'altezza non ti potevano... Non c'era il limite di statura. Io sono alta per caso. Naturalmente io scherzo con Franca, perché Franca è abbastanza, diciamo, a un'altezza superiore anche alla mia. Non è vero. Forse oggi mi rimane un po' rispetto alla telecamera, però... Mi sto accorciando con gli anni, forse. Ritornando a noi. Quindi hai accettato, hai fatto il concorso... Ho fatto il concorso e l'ho vinto. Siamo entrati in otto. Se vuoi ti posso dire i nomi dei colleghi che sono... Assolutamente. Questi saranno i colori che andranno in pensione a... No, sono tutti in pensione. Ah, già in pensione. Sì, sono tutti in pensione. Io sono l'ultima. Tu li hai aspettato ancora? Non ho aspettato, erano più grandi di me. Io sono del 56. Sei piccola. Ero la più giovane, ero la più piccola. Non diciamo l'età... Ho 63 anni, credo di non aver mai nascosto la mia età. 40 anni di servizio. 49 anni e mezzo. 79 2019. 15 aprile. 40 anni e 6 mesi. 40 anni e 6 mesi, perché 6 mesi che ho dovuto aspettare. E poi un giorno pure. E poi... Nel Stato, nell'antepubblico si fa così. 40 anni, 6 mesi e un giorno. E un giorno. Sì, sì. A distanza di 40 anni del tuo onorato servizio, hai avuto, diciamo, ripensamenti di quella che era la tua decisione iniziale di non voler intraprendere questa carriera? Ripensamenti? Sì, posso dire, una volta soltanto veni convocata dall'allora commissario di Aghero, dottor Pagni, che mi disse, puoi entrare in polizia. Avevano aperto le porte alle donne anche in polizia. E io, essendo appunto, come ho detto prima, una orfana per servizio, mio papà era un poliziotto, avevo la possibilità di passare, fare un cambio dalla polizia, che allora era polizia municipale, non locale, alla polizia di Stato. Tornai a casa, tutta felice, lo dissi a mia madre che non volle sentire ragioni. Io, siccome ero molto attaccata alla mia mamma, pur di non dargli un dispiacere, ho rinunciato. Sei figlia unica. Sono figlia unica, avevo 7 mesi quando è morto mio padre. Quindi? Mio padre e mia madre hanno dovuto aspettare 11 anni per potersi sposare, perché mio padre, essendo in polizia, doveva aspettare i fatidici 32 anni per potersi sposare. E quindi, mamma, è stato un amore epistolare. Si scrivevano lettere che io, fortunatamente qualcuna l'ho anche trovata. E poi si sono sposati nel 55, nel 56 sono nata io e, ahimè, nel dicembre del 56 mio papà è morto di broncopolmonite, una malattia contratta in servizio per la quale, grazie a Dio, gli è stata riconosciuta la causa e io ho avuto i diritti da orfana per servizio. Naturalmente il tuo amore ha rifiutato quello che era il tuo ruolo magari di un passaggio in polizia per tenerti vicino con lei. Una mamma guerriera, una mamma che mi ha veramente forgiato una corazza. Lei non mi ha costruito una divisa, ma mi ha costruito una corazza. Non ha mai permesso a nessuno dei miei zii di intromettersi nella mia educazione, non ha mai permesso a nessuno di darmi dei, neanche dei consigli. Proprio neanche di dire, c'è mia figlia e la cresco come voglio io. Mamma dopo tre anni di vedovanza, chiusa a casa tutta tappata, vestita di nero, coma tutta la sviura, coma tutta la sviura. Si è tolta almeno il fazzoletto, ha preso una muturetta e andava a lavorare per crescermi come mi ha cresciuto, nella bambaggia. Quanti, diciamo, comandanti nel corso della tua attività hai conosciuto? Tanti, tanti. Quello al quale sono più legata, nessuno me ne voglia, è indubbiamente il comandante Alessandro. Paolo Alessandro è stato per me veramente un padre. Io ogni volta che parlo di lui mi commuovo, sono legatissima alla sua famiglia, tengo ancora i contatti con i figli, io farò una festa per il mio pensionamento e Luigi Alessandro è il figlio del nostro comandante e sarà sicuramente il mio ospite d'onore. Mauro vive fuori, è il figlio più giovane e altrimenti avrei invitato anche lui. Io sono legata a quest'uomo da un ricordo, non è che non mi abbia fatto piangere, mi ha fatto piangere, era molto severo. Io quando sono entrata nei vigili mi ricordo, sentivo i colleghi che dicevano e quando arriva Alessandro lui era in ferie e quindi ho conosciuto un momento in cui non c'era. E parlando sentivo Alessandro, ma ammazza di quest'uomo, gli danno del tu, lo chiamano per nome. No, Alessandro era il cognome e quando l'ho visto posso garantire che mi sono fatta la pipì addosso. Era un uomo severissimo ma era giusto. Sì? Sì. Era un uomo giusto. Era un uomo al quale potevi confidare qualsiasi cosa, non ci ha mai fatto litigare tra colleghi, cercava sempre di mediare. Ti andavi a lamentare di un collega, lui cercava di mettere pa... Cercava di distogliati, quindi creare quello... Anche quando il cittadino andava a parlare male del vigile diceva l'è sicuro di quello che sta dicendo? Allungava una penna, me lo metta per iscritto, faccia la denuncia. Si ritiravano in buon ordine. Certo. Ascolta Franca, naturalmente durante il tuo lungo percorso professionale hai trovato, sì, tante agevolazioni. Parlo in che senso? Assolutamente. È vero. Tu come vigile, come vigilessa, o che ti presentassi in divisa o senza divisa, qualche momento di rispettuoso, diciamo, nei tuoi confronti c'è stato sempre. O no? Ma no, io credo, non lo so, magari io non me ne rendo conto. Se ho avuto delle agevolazioni per la divisa, io credo che la divisa... Agevolazione in che senso? Nel senso che eri una persona gradita, oltre naturalmente a quella che è la tua... Guarda, la divisa ti apre molte porte ma te ne chiude anche tante. Ti toglie la vita privata, veramente ti blocca. Ti blocca, sei comunque un vigile urbano. Il comandante Alessandro, scusate se mi ripeto, ma il comandante Alessandro ci ha insegnato ricordatevi che siete vigili sempre, sempre. Non si diventa vigili sei ore al giorno e poi ti togli la divisa, no. Io, tu mi hai detto quanti ne hai conosciuto tanti, ma io ho conosciuto anche tanti assessori. Una volta si cedevano le deleghe, il sindaco cedeva la delega alla polizia municipale e quindi c'avevi l'assessore. Io ho conosciuto assessori veramente ai quali è stata portata la valigia. Assessori che non vedevi l'ora che andassero via perché ti mettevano in difficoltà professionalmente. Perché io, essendo una sfacciata, quando mi toglievo la divisa, magari andavo al mare, stavo a seno nudo e questo era una cosa che a qualche politico dava fastidio. Ma il corpo è il mio, non è che mi paghi, non sono un open shop che mi paghi H24. Io sono un essere umano che ha anche una sua vita. Io sono una donna che vuole anche essere donna sotto l'uniforme. Per quanto mi sono fatta fare un uniforme con foggia maschile, per scelta, io non ho mai indossato la gonna in divisa. Proprio per una questione di comodità, volevo sminuire il mio corpo, volevo coprirlo e non far vedere che c'era una donna sotto l'uniforme. Ero un vigile, un'istituzione. Qual è che doveva essere rispettata? Ho capito. Ascolta, quando si entra nel mondo dello sport, in particolare in quello calcistico, si guarda il giocatore, quello che è il suo percorso professionale, e soprattutto se si tratta di un attaccante, si chiede quanti gol ha fatto questo attaccante. Non chiedermi quanti multe ho fatto. No, 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 invece te le chiedo. No, non lo so, ne ho fatto tante. Ne hai fatto tante. Ne ho fatto tante. Sappiamo che Messi ha giocato 700 partite col Barcellona, ha segnato 613 gol. Dovresti chiederlo all'ufficio verbale, ma ho un bel record. Ah sì? Ho una media alta, sì. Quindi ha contribuito per... Scusate. Sì, ho una media alta. Però io non... Rispetto ad altri vigili, sei stata troppo severa? No, assolutamente. Sono stata giusta. Io sono presuntuosa. Sì? Credo che lavorativamente parlando io sia stata una persona corretta. Io non ho mai... Me ne posso guantare di questo. Ho fatto una multa per rispetto. Io ho sempre usato il fischietto. È una cosa che mi contraddistingue. Il comandante Guido Calzia, ma anche prima di lui il comandante Betterelli, ci chiedevano di non fischiare. Io ho sempre dato all'utente la possibilità di comprarsi un pacchetto di sigarette, di andare in farmacia a comprare una medicina e perché no, anche bersi un caffè veloce al bar. Cioè il classico posteggio in seconda fila. Il classico posteggio in seconda fila o anche il divieto di sosta. Però se tu lasci la macchina, la chiudi e te ne vai, io a quel punto scrivo. Ascolta, a proposito di multe, se lasci la macchina, quell'ultima multa che era stata combinata a quel signore che invece... Aveva dimenticato il finestrino? Sì, esiste una legge effettivamente. Sì, esiste un articolo della strada che lo vieta, il veicolo va lasciato chiuso con la marcia ingranata e il freno a mano tirato. Tutto quello che tu non fai è sanzionabile. Il problema qual è stato? Quella macchina era stata segnalata. Se tu chiedi a me che cosa avrei fatto io in quel momento, io avrei rimosso la macchina. No, io avrei rimosso la macchina. Addirittura? Certo, perché creava una situazione di pericolo. I miei colleghi, nel sanzionarla, sono stati morbidi. Ecco, io l'avrei portata via. Quindi Franca Pischetta, come vedete, è ferrea in questo senso. Nel senso che quando le regole devono essere rispettate e qualcuno fa finta di... Bene, a quel punto viene sanzionato. Tornando a noi, Franca, tu non hai fatto soltanto quello che è il normale servizio di vigile urbano. Ti piace più essere chiamata vigile urbano, vigilessa? Oppure polizia municipale? Come, come, come? Allora, io preferisco essere chiamata Franca. Comunque il termine che mi piace di più è sicuramente vigile e non vigilessa. Io sono stata vigile e sono vigile nel senso di attenta. Per tanti anni. È una deformazione professionale. Chi indossa una divisa lo capisce, ma anche chi è abitualmente, caratterialmente attento. Il tuo grado attuale? Io sono un assistente superiore. Assistente superiore. È il grado massimo dei sotto ufficiali. Non hai mai pensato di fare il salto? Non lo potevo fare. Io non sono laureata e non si può. Ho capito. Quindi, tornando a quella che è stata la mia prima domanda, oltre a svolgere questa attività normale di vigile, quale sono state le tue, diciamo, battaglie, soprattutto quelle che sono state le tue funzioni in certe occasioni? Vedi, per esempio, l'ultima del 2018, se non vado errato, il terremoto del 2016 di Amatrice. Il terremoto di Amatrice è la cosa che sicuramente mi ha toccato di più, indubbiamente, perché ho fatto quattro missioni. Certo, ricordo ai nostri telespettatori, per dovere di cronaca, che nel 2016, appunto, quando ci fu il terremoto, Alghero fu uno dei primi comuni che andarono incontro a queste popolazioni. Il primo della Sardegna, uno dei primi in Italia, al di là di quelli limitrofi, all'Umbria, noi siamo stati i primi a partire, con le difficoltà che abbiamo avuto, perché difficoltà ne abbiamo avuto tante. Prima di Amatrice, noi veramente abbiamo seguito l'iter burocratico corretto, siamo partiti e ci siamo recati a Rieti, dove c'era il Dicomac, che distribuiva gli aiuti in base alle richieste. I soccorsi si erano veramente versati tutti su Amatrice, in quanto la città che aveva subito, il paese che aveva subito più danni, e soprattutto più morti, con accumule acquata, che sono limitrofi ad Amatrice, che hanno avuto, oltre ai danni materiali, purtroppo ai meccoli delle vittime, ricordiamo, 299 vittime, 300 circa. Quindi Rieti distribuiva gli aiuti in base, il comune che aveva chiesto aiuto, perché era in gravi difficoltà, era Preci, Norcia e Cascia. E con noi siamo stati, siamo partiti in otto, siamo arrivati lì inconsapevoli di quello che, perlomeno io, il comandante Guido Calzia invece, il collega di Porto Torres, allora faceva servizio da poco ad Alghero, Alessandro Corrias, avevano già prestato servizio invece al precedente terremoto che c'era stato. E tu era la prima volta che intervenivi? Io era la prima volta che intervenivo in simili situazioni. Avevo fatto Olbia con l'alluvione, ma era un'altra cosa. Anche lì c'erano stati dei danni, anche lì c'erano stati dei morti, ma la città di Olbia, l'acqua scorre, poi non rimane. Le macerie purtroppo ai meccano l'acqua. Io ho mantenuto i rapporti umani con queste persone, alle quali sono legatissima, legata da un'amicizia profonda, li sento quasi parenti, familiari. Io sono andata veramente per asciugare lacrime e ho trovato persone che hanno asciugato le mie. Io, insieme alle mie colleghe Arianna e Daniela Aubinu, che erano le altre due donne che sono venute con me, ci tengo anche a ricordarlo questo. Non sono Wonder Woman, io ho delle colleghe straordinarie che mi hanno seguito nel percorso. È vero che io mi sento un po' la maestrina. Loro però hanno sempre riconosciuto la mia anzianità di servizio, la mia esperienza e soprattutto il mio carattere è così sfacciato, è così sfrontato per certi versi, ma secondandomi veramente e facendomi da grande, grande supporto. Ascolta Franca, voi come corpo municipale, parlo del corpo di polizia di Alghero, fate dei corsi formativi verso la protezione civile, verso questi che sono... A Alghero c'è il COC, però io non ne faccio parte. Il COC. Vogliamo, perché certa gente magari non capisce gli acroni. È proprio, è un centro organizzativo comunale. Centro organizzativo comunale. Ma loro si riuniscono, sono sempre... Uno stato di allerta ci deve essere sempre. Noi abbiamo il problema delle alluvioni, abbiamo il problema del Ponte Serra, qualche allagamento lo subiamo, ma ringraziando Dio niente di grave. Ma non ci dimentichiamo l'alluvione che allagò tutte le case, l'acqua che scendeva da Villanova. Abbiamo avuto problemi anche noi non gravissimi, ma bisogna vedere. Io credo che il terremoto sia una cosa completamente diversa. Il terremoto ti segna. Io ero piena di lividi, cadevo continuamente. Le scosse ti tolgono il terreno da sotto i piedi. Avverti una sensazione strana. La senti dentro, la senti nello stomaco, quasi come il mal di mare, il mal d'aereo. Io sentivo lo sciame sismico. Ti viene la nausea, il capogiro, è la terra che uscilla. Tu non te ne rendi conto. Io mi ricordo le famiglie come mi hanno insegnato ad avvertire le scosse. Appoggiavano sul tavolo un bicchiere d'acqua, a metà. Quando il tavolo vibra appena appena, l'acqua si muove. E loro andavano tutti in allerta. E questo l'ho imparato anche io. Io la notte, quando andavo a letto, mettevo il bicchiere su quello che era un tavolinetto adibito a comudino per vedere se oscillava e aprivo ogni tanto gli occhi per vedere se l'acqua era ferma. Cioè, mi viene da chiederti, ma questa esperienza, questa forte esperienza che hai maturato in un campo così molto, molto difficile da affrontare e soprattutto ricco di morte, guarda... Ti ha lasciato qualcosa? Mi ha lasciato tanto. Mi ha insegnato intanto, prima, io credo che sarà capitato a tutti, a te, a tua moglie, ti si rompe un bicchiere, una tazzina di caffè, no? Dici, ma andata, una tazzina di servizio. Ecco, io lì ho imparato che se si rompe una cosa... Si è rotta, pazienza. È rotta. Quelli hanno perso tutto. Io avrò fatto migliaia, migliaia di fotografie. La televisione ha fatto vedere tanto. La televisione non ha fatto vedere che lì sono caduti anche i cimiteri. Che le bare uscivano dalle tombe. Che la gente doveva andare a riconoscere i cadaveri. A riconoscere le ossa. C'erano veramente la desolazione. Quando io sono andata la prima volta nel cimitero di Ancarano, e ho visto quelle bare fuori dalla terra, e ho visto quei loculi crollati, le casse per terra spaccate, e le ossa sparse qua e là. Io ho capito. È vero che, credo, grazie a Dio, in un'altra vita, e quindi quelle anime buone non erano là. Però io penso ai parenti. Ai parenti che avevano pianto accompagnandoli e che dovevano andare a piangerli in una seconda volta, recuperare queste casse, riconoscerle spaccate. Quelle sono cose che non si possono dimenticare. Io non potrò dimenticare gli occhi degli allevatori di bestiame, che non volevano lasciare le loro mucche, che non volevano lasciare le pecole. I paesi Umbri, l'Umbria è una terra, è il cuore dell'Italia. È una terra semplice. È una terra di santi e di poeti. È una terra incredibile. È veramente... Gli manca solo il mare, ma perché è un cuore. Io non volevo più ritornare, tant'è che mi avevano consigliato un supporto psicologico, perché dicevano, tu stai soffrendo della sindrome del volontario. Sicuramente. Ecco, io adesso ti interrompo un attimo, perché do la linea alla regia per un breve intermezzo musicale, ti stai commuovendo, riprenderemo appunto da questa sindrome, e naturalmente per la seconda parte. Quindi lascio la linea alla regia per questo breve intermezzo musicale. Ci sentiamo tra poco. Linea alla regia. Grazie a tutti. 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 a farvi capire. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Yeah. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.